Caritas di Udine con il microcredito aiuta le persone che attraversano un momento di difficoltà con un servizio speciale. Sì, è un servizio molto importante, attivo dal 2012 sul territorio dell'Arcidiocesi di Udine e si attiva grazie alla funzione che hanno i centri di ascolto diocesani, sono 11 sul territorio, che all'interno hanno in tutte le loro sedi un esperto che può dare delle indicazioni su accesso al microcredito. È un credito a tutti gli effetti e quindi è un rapporto che si instaura con degli istituti bancari che hanno firmato una convenzione con la Caritas, sono 5. Il microcredito può andare da 1 euro a 5.000 euro e le rate possono andare da 12 a 60. Di solito la media del credito erogato è sui 3.000 euro. Il valore aggiunto che Caritas dà a questo microcredito è la possibilità di essere seguiti durante tutto il percorso con un tutoraggio e anche per avere un supporto nel mantenere il rapporto con gli istituti bancari e anche con la Caritas. Con le persone è importante che si rivolgano ai centri di ascolto e a Caritas prima di arrivare in condizioni di estrema difficoltà. Sì, perché il microcredito è un credito altamente dignitoso che aiuta le persone proprio nel momento in cui stanno andando in difficoltà. A volte quando si è oltre il limite è molto difficile poi erogarlo quindi l'invito è veramente a rivolgersi alla Caritas anche solo per ricevere delle informazioni. Una telefonata oppure un accesso al sito sono di ottimo aiuto.